SILVANA DE MARI Siete talmente coglioni, siete dei cani e dei ladri, idioti, siete dei vermi buoni a nulla, cretini, stronzi, stupidi, tanta gente di un'assoluta mediocrità, dovunque volgo lo sguardo, ho la repellente visione di centinaia, migliaia di disgustosi maschi islamici e militari, degli albumi di un metro 90 per un metro di spalle, io vi chiedo, ci levate dalle palle i vostri fottuti pride che ci fanno schifo, fare di meglio non serve assolutamente, fallirete tutti uno dopo l'altro, per dieci mesi sarete tutti falliti. Siccome sono malvagia e ho il mio diritto, perché dove la bontà venga imposta per legge abbiamo una teocrazia. Ecco quali sono i miei ordini. Io pretendo che tutte le volte che viene assunto qualcuno in una messa scolastica, gli si chieda per autocertificazione, scusi di pratica erotismo anale. I miei ordini sono... 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 Che ogni persona omosessuale... Sia spazzato via! Distrutto! Sono incassata come una furia! Minato! Tutti! Sono stata chiara, avete capito quello che ho detto? Riuscite a capire il filologico? Tu oseresti discutere con me? Non tolleriamo più idiozie, pensate fino a dieci prima di aprire la bocca e dire la prima idiozia che vi viene in mente. Scena che osa far commenti! Merita di vivire sui carburi ardenti! L'auguro con tutto il cuore che le vostre case lucido, le vostre case prendano fuoco. Un peso morto! Un fuocchio, un fuocolaio, quale erano tutti! Credi che sia magia? No! Io non sono una maga! Sono un medico, vengo a parlare di medicina? Vengo a prenderti adesso! Dai a casa! Ma che sei tu? Le tre madri! Cos'è, non capisci? Mater Tenebraron! Mater Lacrimarum! Mater Suspiriorum! Ma gli uomini ci chiamano con un solo nome, un nome che incute paura a tutti! Mi chiamo Silvana, Emilia, Giro. La morte! La morte! Adesso vogliamo tutti! Adesso vogliamo tutti! Dai che ci divertiamo! Ah xìiii! Ahhhh ha 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 ha! Ah HAVEHahahahahahahahahahahaahah..." Tachte I Grazie a tutti